Il dodicesimo corso organizzato dalla Fondazione Mariani in collaborazione tra l'Istituto Benstra e SST Lariana propone in maniera estremamente chiara e forte la rivoluzione metodologica e clinica e tecnica che le nuove tecnologie genomiche stanno introducendo. Questo cambia completamente l'approccio al paziente, può ridurre i tempi e può ridurre i costi per arrivare a inquadramenti diagnostici che hanno delle ricadute fondamentali nella gestione dei pazienti sul piano assistenziale e nel counseling genetico. La sessione casi clinici che abbiamo appena terminato è stata una sessione di particolare interesse perché dal confronto anche con esperti stranieri che erano presenti è emersa la possibilità di classificare con una ricerca genetica mirata su un gene in via di pubblicazione in queste settimane, due casi clinici a oggi classificati come non diagnosticati e caratterizzati solo dal punto di vista clinico. Quindi come ricaduta immediata il confronto tra esperti ancora una volta, confrontando dati clinici e in questo caso genomici, permette di raggiungere livelli veramente profondi di classificazione di queste situazioni complesse e rare. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!